100.000 di ante! Ante! Cure! C'è mio Dio! E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vederci tra un momento è qui su Joe e Sigmund Epic! Nello scorso episodio abbiamo finito il gioco salvando tuuuutti i nostri amici ruggerosi Clicchiamo su su 2, che cazzo è su 2? Cosa è su 2? Non capisco, non capisco, signorina, non capisco Cos'è, chi inventa vendetta rapida Ma io sblocco gli achievement così, eh, signorina Cos'è sta roba, signorina, non capisco, signorina Qua ci sono, c'è, 2, cos'è quel 2? C'è il sedo fuoco qua? No, sì, vabbè, il fuoco va dato sulle foglie G G, 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 G G G Che c'è sto, cugù? Cos'è, non capisco, non capisco La porta che si apre, signori Aspetta, che cazzo è? Dove faccio la scossa? Oh, no, sono morto, morto! Una scomparsa scioccata Oh, signore mio. Questa era bruttissima. K. H di canguro. E mo? Aspetta, vabbè, tu ci fotte. Cazzo, me ne fotte. Starto! Di nuovo! Signorina! Perché muoio? Vabbè, va fanculo. Va facciamo così per ora. Ok. Perfetto. Ok, fuoco. Levatita al cazzo. Fuoco, fuoco. Mamma mia, sempre... K. Poi, dopo la K, c'è. Dopo la K, c'è. Lo facciamo così stavolta. Perfetto. Facciamo il fuoco perché è più propenso a dare il meglio il cocolato. Quindi. G. G. Cazzo è la G. Non lo so. Oh, guarda. S'ha stutato la lava. S'ha stutato, ragazzi. S'ha stutato la lava. Ha stutato vuol dire spegnere. Oh, sto stutando la lava. Lo ha stutata. Ha stutato la lava. Ok, basta fare lo stupido. Damn. Allora, qui evitiamo di fare gli inconscienti. Facciamo... Non facciamo gli inconscienti, eh. Allora, rompiamoli con l'accetta. Allora, rompiamo. Piano, piano. Buono, buono. Ok, rompiamo tutti quei barelli. Barelli, dove è la mia... C'è una lettera. Dov'è? Oh, oh. Cog. Cog. Chi è Cog? Chi è Cog? Chi è Cog? Cog. Cog? Aspetta, io mi faccio qui una bellissima... Accetta a forma di qualcosa. Non si sa che forma abbia. Però abbiamo rotto... Vabbè, io abbatto gli alberi perché magari assolutamente c'è qualcosa. Aspetta, ti accende il fuoco. No. Aspetta, se... Ecco, lo sapevo che morivo. Lo sapevo che morivo. Non te la prenderà male, eh. Ma vado a fangolo, eh. Kong! Kong! Chi è Kong? Aspetta, ma... Oh, ah. E se... Qua c'è l'ape. Oi! Piala. Koing! Koing. Qua c'è una croce. Chi c'è la croce? Koing croce. Lo sto capendo. Oh, guarda qua. Dobbiamo fare crescere la zucca. Poi dammi qui una bellissima accetta. Vedi che di accetta ha ben poco. Oh, oh. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Ciao un po'. Ih. Maria. Koing 14. Koing 14. What the fuck? Ah, qui ci sta il fiore. No, ne ho sbagliato. Non il fuoco, devo fare la nuvola. 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 Aspetta, qui spegniamo la lava. Oh, forziere. Yes. Andiamo qui col grimaldello. Oh, no. Koing 14. Che parola è? Ih. Maria, la lava. Coming 2014. No, non ci credo. E là, dove è l'altra lettera? Ok, sta roba. Oh, le pannocchie. Le pannocchie. Perché faccio crescere tutto? E la peppina, mamma mia, ma non è che magari crescessero così le cose, eh? Cioè, mamma mia. Vabbè, mamma mia. Spera che... Sembra che la terra sputa tutto. Cioè, proprio caga la frutta. Cosa è questo? Coming 2014. Fichissimo. E' in arrivo il 2014. Cosa? Raga. Siamo al 29 agosto. No, sì, vabbè, 29 agosto. Pure io sono incoglionito. Siamo al 29.06. 29 giugno 2014. Almeno io in questo momento sono al 29 giugno 2014. E cosa? Oddio, mi ha aperto il sito. Ma io non c'ho internet. Io non c'ho internet. Signorina, non c'ho internet. Cazzo me lo... Ci uscirà il 2. Raga, ci uscirà il 2. Quindi voi vorreste il 2? Lo vorreste? Fatemelo sapere qui sotto con un commentino. Nel frattempo... Però vorrei anche fare qua. Perché... Perché sì, perché... Perché non l'ho fatto nello scorso episodio. Scusatemi. Cioè, io l'ho battuto. Sì, però... Cioè, qua sicuramente c'è un modo per passare. Il modo per passare c'è. Ma hai cannato. Ma non fumo! Cioè, come... Raga, come si passano le mine? Come si passano? Non le devo passare. Allora, aspetta. Se faccio tipo dei fuochi... Tipo... Guarda qua. Il fuoco ti sento a rosalire. Questa faccio il fulmine. Faccio lì. Forse se vado piano... Hai fatti il botto, eh? Ma va! Ma dai! Pensavo che avevo fatto... Oh, la finestra. Ma porca... Allora... Ero arrivato là sotto, eh? È già qualcosa. Raga, piano, eh? Piano. Ma non è facile, raga. Ma almeno... Consiglio, evita le... Ma te l'affanculo! Gioco di... Piano. Non, 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 no, 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 no! Prova a correre, Tim, va a correre. Se ancora faccio burro. Capite, a quando è che se c'è un campo minato, corri e funziona? No, 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 no! Prova a correre, ma questo... Aspetta, no, ora, ma hai fatto... Ma il gioco mi piace per il culo, no? Perché se mi sta prendendo per il culo non è divertente. Gioco di merdo. Allora, aspetta un'altra. Aspetta, io provo a correre. Questo è quello che ottieni se corri! Vai, 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 vai. E non mi potevano fare che noi sei immune all'esplosione. Allora, proviamo ad avvicinarci piano piano. Appena cominciamo a fare... Ce ne andiamo via. Ok, proviamo. No, raga, lo voglio finire, sta cosa. Non me ne ho fatto nucazzo proprio. Signorina, c'è un livello improponibile, signorina. Vedere che magari forse si è aperta qualche cosa qua sotto. Ma quando va? Cos'è, Pipì? Oddio! Cos'era? Cos'è? Pipì! Fallimento epico! Giuda! Mi ha ucciso la Pipì! Come mai mi ha ucciso la Pipì? Mi ha ucciso la Pipì! Ma dai, mi ha ucciso la Pipì! Aspetta, facciamo qua tutti i fulmini qua. Rrrr, 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 qui. Yes! Ah, sono in crisi, sono in crisi, sono in crisi. Ah! Aspetta, andiamo di qua? No, no! Evita le scoglie! Ma dai! Mi sento preso pure per il culo! Piano. Piano. Pollo. Piano. 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 Ora qua muoio, ora qua muoio, qua muoio, piano. Lo sapevo che morivo, lo sapevo che morivo, lo sapevo che è andato, va bene, è arrivato là, è arrivato però, eh! Piano, eh! Piano, se vado... Piano, se vado... Stick me l'ha fatto... Boom! Meno male che c'è lui a ricordarmelo, che carino il gioco! Che carino il gioco, che carino il gioco, che carino il gioco... Maledizione sto gioco! Per un attimo ho detto, guarda, guarda, non esplodo! Mi giusto per un attimo e poi tranquillo che il gioco mi ha ricordato... Eh, eh! Ne pareva? State cazzo! Non è veramente facile! Giuro, spacco tutto, eh! Giuro, spacco tutto! Piano. Piano! Evita l'esplosione! Ma non potevano fare le mine che esplodevano a contatto con... Con qualcosa, ma dai! Piano, 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 piano! Hai fatto... No, raga, raga, mi sto nervosendo! Ragazzi! Come passo? Passavo prima! Mo non posso... Prima ero passato! Mo non passo più! E sto facendo la stessa identica strada uguale a prima! Che poi manco a dire, vai a vedere la soluzione su internet! Non ce l'ho mai qui! Prova a correre, prova a correre, prova a correre, prova a correre! Come si corre? Come si corre? Come si corre? C'è il tasto... Corri! Prova a correre! Guarda, guarda! Corri! 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 Sì, sì, guarda! Mamma mia! Sono andato così lontano, guarda! Che sono diventato, vuol dire, del fumo! Piano! Avevo detto piano! Avevo detto piano! Avevo detto piano! Piano! Ma c'è un modo per arrivare al puzzle senza morire? Beh, sì, passando le mine, ovviamente, però! Non lo capirò mai! Non lo capirò mai! Non lo capirò mai! Guarda, giuro, se c'è una soluzione io non ci sto arrivando, guarda! Disinstallo il gioco! Fai più attenzione alla prossima volta! No, se ti disinstallo! Fai attenzione tu la prossima volta! No! Vai, la vostra! No, ma perché con la scossa non esplodono? Dai! Con la scossa dovete esplodere! Dai! Non ha senso! Non ha senso! Non ha senso, però, eh! Non ha senso, dovete esplodere voi! Dovete esplodere! Non esplodono! Non esplodono! Tranne se... Tranne se non mi ci metto io sopra, in quel caso si esplodono! Era passato in modo strano, era passato in modo strano! Scusate, ma se io... In questo momento, se io clicco qua! Non cambia! Un cazzo proprio! Muoio lo stesso! Perché io lo controllavo con W-A-S-D qua! Buzz! Però ho detto, boh, magari non lo so! Cliccando, forse quella è la soluzione! Che bella mina! Prima c'era arrivato l'assolto, però, eh! Prima c'era arrivato la riduzione l'assolto! Prima c'era arrivato! Prima c'era arrivato! Vaffanculo Eeeh Vabbè Io ci ho provato Eeeh No 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 Il livello di me Ma che ho No 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 Ci pommo di 257 mila 492 mila volte Quindi Ciao 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 Come si chiude Come si chiude Ruggiero Bastardi Bastardi Il mio Ruggiero Dove Ti salvo io No Ruggiero Mi hai chiuso in gabbia Non Intangare